Qui c'è invece l'altro ragazzo, questo qua ha una corrispondenza di 118 lettere cartoline, è di Veglio, che non è più così a Vincenzo, parte a 19 anni, come soltanto prima, a gennaio del 1915. Prima lettera che scrive 24 maggio, giorno della dichiarazione di guerra, che è questa. Questo è stato territoriale. Questo è poi sul Monte Nero, lui fa il Carso e l'Avane, che fa parte del gruppo Montegraza. Era subisorso, anche lui viene catturato, viene internato, questa è l'ultima catturata che lo scrive, viene internato, questo è il Ministero della Guerra, che dice che è stato internato a Mauthausen. Grazie.